I calciatori della Stella Rossa e della Vojvodina hanno concluso la partita del campionato serbo con un pareggio, 1-1. Tuttavia, la partita è stata nel dimenticatoio poiché l'intera partita è stata dedicata alla memoria del calciatore Siniscia Mijajlovic. Ai suoi figli sono state consegnate le maglie di entrambe le squadre, è stato organizzato uno spettacolo di danza, dopodiché è stata sviluppata una sua fotografia a grandezza circolare nella parte centrale del parco giochi. Inoltre, i giocatori della Vojvodina sono scesi in campo indossando magliette dedicate a Mijajlovic, mentre la squadra di casa ha giocato con maglie speciali con il popolare e bomber. I fan di Stella Rossa hanno fatto un ulteriore passo avanti e hanno realizzato un mosaico con la sua immagine accanto a uno striscione che diceva Mijajlovic per sempre! Ricordiamo che Siniscia ha lasciato un segno importante nel calcio italiano. Ha indossato maglie e segnato gol in Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. I tifosi di questi club hanno già reso omaggio a Mijajlovic in tutta Italia. I tifosi di questi club hanno già reso omaggio a Mijajlovic in tutta Italia. I tifosi di questi club hanno già reso omaggio a Mijajlovic in tutta Italia. Grazie a tutti! Grazie a tutti!